Ciao a tutti, questo è un tutorial di scultura. Non vi spaventate, faremo una cosa molto semplice. La facciamo insieme e cerchiamo di stimolare un pochettino la creatività, ok? Altra piccola premessa, la creatività non è soltanto la capacità di saper creare qualcosa di artistico, ma è la capacità propria dell'uomo di trovare delle soluzioni nei momenti difficili. Capito? Allora, in questo tutorial vi farò vedere come possiamo realizzare una testina di argilla, tipo questa. Che ci serve per lavorare con l'argilla? Io ho preso degli arnesi. Normalmente questi sono gli arnesi che si utilizzano per lavorare. Sono delle stecche di canna o dei pezzi di legno, oppure degli specili, quelli del lentista. Questi sono tutti arnesi professionali. Io ho pensato che voi, ovviamente, questi avreste avuto un po' di difficoltà a reperirli, per cui ho selezionato degli arnesi che potreste trovare comunemente a casa. E quindi un coltello, matite, di vario tipo, queste sicuramente non vi mancano, spazzolino, poi vi spiego a cosa servirà, cucchiaio, potrebbero bastare. Intanto comunque quello che useremo di più saranno le matite. Grazie. 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 Grazie.